A Teramo il dibattito sulla costruzione del nuovo ospedale si fa sempre più acceso. Il gruppo di lavoro incaricato di valutare la fattibilità del progetto ha recentemente presentato un rapporto che evidenzia significative e rilevanti criticità nelle tre ipotesi progettuali esaminate per il sito di Villa Mosca, attualmente occupato dall'ospedale Mazzini. Per il comitato Pro Mazzini le difficoltà identificate dal gruppo di lavoro possono essere superate grazie agli ampi spazi disponibili presso il sito indicato, ideali per un ospedale di secondo livello. Abbiamo parlato della delibera a ottobre 2023 dove in un periodo viene sancita di fatto la scelta verso Fiumicino e quindi la nomine della Commissione non poteva che portare a questo risultato, che sono risultati di criticità non di impossibilità. Chiamarlo studio di fattibilità ci vuole tantissima fantasia perché in realtà è una semplice risposta, una nota con delle considerazioni note, stracotte e tutti sapevano, bastava chiedere a Ruppa, all'ingegnere Andrea Di Biagio per farseli dire, quindi altrimenti non serviva questo ulteriore appazientimento e perdita di tempo, perché poi sta succedendo questo, stiamo perdendo da sette anni che discutiamo del nulla. L'unica soluzione praticabile, d'altronde è fatta presente anche dal dirigente del Comune di Teramo e quella soluzione che anni fa è stata presentata da un partito politico locale, l'unica soluzione percorribile non è stata presa in esame. Sono state evidenziate criticità sulla volumetria e le altezze disponibili, nonostante il dirigente del Comune di Teramo, ed è verbalizzato, ha fatto presente che sarebbe stato oggetto di una variante. La questione è delicata e richiede un'attenta considerazione. Per questo motivo domani 3 aprile si svolgerà la Commissione Speciale Sanità del Comune di Teramo, organizzata proprio per approfondimenti tecnici e sanitari per la realizzazione del nuovo ospedale. Noi vogliamo partecipare perché la nostra presenza è stata sancita dalle 10.000 firme raccolte e dai dati sulla sensibilità della città in ordine a questo tema. Quindi noi vogliamo farci carico della popolazione delle loro sensibilità per partecipare alla Commissione Sanità, dove noi abbiamo da fare le nostre considerazioni su questa relazione che assolutamente presenta delle contraddizioni e delle inesattezze che debbono essere portate all'attenzione della municipalità.